Allora, consigli per le aziende. Ho pensato di raccontarvi una cosa, siccome tra le varie attività c'è quella di insegnare il mondo anche della digital transformation, quindi tutto quello che riguarda soprattutto le scritte a cui manca una A, come in questo caso, la digital transformation è ancora più veloce della transformation perché manca una A, no si scherza ovviamente è un refuso mio e la digital transformation in sostanza ha a che fare con tutte le etiche che possono servire un'azienda per migliorare la propria digitalizzazione. Oggi si parla di impresa 4.0, cioè di un nuovo modo di fare impresa, peraltro è anche il titolo di un libro che trattava proprio questi temi molto anteliteram che ho scritto insieme al professor Franco Giacomazzi che ci ha lasciato pochi anni fa e a cui sono sempre grato e legato e insieme a lui ho avuto l'opportunità di scrivere questo libro con i Financial Times dove trattavamo proprio questi temi. 13 anni prima, oggi ce ne occupiamo ad esempio all'Imperial College di Londra dove è una delle attività che svolgo, quella di fare l'advisorly ma anche nel mio corso all'università, piuttosto che insomma oggi è diventata materia comune e ho detto allora perché non condividerla con i miei amici e non solamente in ambito universitario allora e siccome stavo scrivendo proprio dei pilastri come si dice, cioè dei pillars in inglese cioè dei punti fondamentali, delle milestone, delle pietre miliari, io ho pensato di condividerle perché magari qualcuno di voi è un'azienda e fare digital transformation non significa per forza solamente come dire, non significa solo che non ha a che fare, non afferisce, come si dice in ambito più colto a solamente alle aziende grandi ma anche a quelle piccole. E allora il tema non è quello degli strumenti cioè è molto facile pensare che tutto sia legato ad uno strumento piuttosto che a un altro quindi cosa devo usare per fare digital transformation, quale chiave inglese devo usare, quale pinza devo usare, quale cacciavite devo usare, cosa è bene che, quale strumento serve per fare quello che fai, il punto è il come, il cosa si fa, quali sono gli obiettivi, questo è l'aspetto più importante. L'altra è che non finisce mai, cioè non si smette mai, non c'è un momento in cui si trasforma l'azienda ed è fatta, è un continuo, è un percorso che facciamo e che non finisce mai. Un'altra, quindi ripeto, questo vale anche se abbiamo il fruttivendolo, la piccola macelleria, un piccolo sito di e-commerce o se siamo la big large company, altra cosa non seguiamo le buzzword, cioè le paroline che vanno di moda al momento, influencer non esistevano, blogger non esisteva, se esiste avanti così, cioè stiamo sempre legati soprattutto alle basi perché è importante, le basi sono, come dire, sono sempre quelle, alla fine è un mondo di umani. Pensate che da una serie di ricerche il 70% dei tentativi di trasformazione in digitale di un'azienda, piccola o grande che sia, ma questo riguarda anche i professionisti, e qui siamo tutti professionisti, hanno bisogno, come dire, di riflettere su questi temi perché appunto è facile fallire, di solito non mancano le risorse, cioè non ci sono abbastanza soldi, non ci sono abbastanza persone, è un grande problema che soprattutto abbiamo in Italia ed è paradossale in un momento in cui c'è una grande risoccupazione, soprattutto giovanile, e mancano proprio i tali, mancano loro. Pensate che sono veramente, credo, 100.000 le risorse richieste nel settore del digitale. Questo vuol dire ragazzi che oggi sono disoccupati e che possono imparare magari non a diventare dei mega grandi esperti, ma banalmente a diventare, che ne so io, dei piccoli bravi grafici o cose simili, di saper metterle le mani su un sito, saper gestire dei social, e non serve un lavoro che richiede, come dire, un anno di studio, ma a volte molto poco e potrebbero trovare subito lavoro. Serve nelle aziende piccole o grandi che siano coinvolgimento, da parte di tutti perché poi sennò c'è chi frena, e soprattutto definire di chi è la responsabilità. E qui è un mondo, e abbiamo chiuso con le aziende, molto complesso perché uno dice forse ci vuole la parte tecnica, forse ci vuole la parte informatica, forse ci vuole la parte innovazione, ma a mio parere ci vuole il CEO, cioè il capo dell'azienda.